Tanti fedeli per le celebrazioni in onore di San Giuliano Martire, lungo le vede il centro, i giulianesi sono stati guidati da Monsignor Runca. Siamo ancora un altro anno a dire grazie a San Giuliano, siamo qui per tutta la città, lo facciamo per chi si sta a casa sua, fa altre cose, ci ricordiamo che una sola è la cosa necessaria che nessuno ci toglierà, quella di camminare con una meta nel cuore, sapendo che il Signore sarà la nostra gioia, la nostra forza e di tutti gli abitanti di Giuliano. Perché guardare sulla terra c'è pericolo di caderci dentro, guardare un poco anche avanti significa sapere che andiamo verso una meta, un po' più di fraternità, di rispetto di questa nostra terra, di rispetto dell'ambiente, di rispetto di chi non ha molte possibilità. E ognuno, dandosi una mano, possiamo costruire veramente una città più fraterna e più giusta. In corteo anche le reliquie del santo. Già il busto che portiamo in processione è un reliquiario, perché al suo interno porta delle ossa del santo, però portare anche questa significa poter, ancora una volta, dare l'immagine di un santo vicino alla popolazione, che la incoraggia, che l'accompagna e che è sempre pronto a sostenere le sue fatiche. Commossa la partecipazione dei fedeli. Qual è la preghiera di quest'anno per la città? Eh, vabbè, la nostra città è un po' problematica, però almeno che riusciamo un po' a risalire dai tanti problemi, quindi un impegno per i giovani, una preghiera per tutti i giovani, perché San Giuliano era un giovane guerriero, quindi speriamo bene per loro e un po' anche per tutti noi. Grazie. Grazie.